negli studi di tv city giuseppe balzano suo figlio giovanni ufficiale bloccato da diversi mesi su una nave in cina che cosa è successo è successo che questa nave a dicembre ha fatto avaria il motore quindi è rimasta ferma in attesa che i rimorchiatori l'avrebbero trainata in un porto prestabilito per lo scarico della merce da dicembre piano piano i rimorchiatori l'ha traghettata e alla fine di gennaio sono arrivati in porto hanno sbarcato la merce e il dato che la nave non si poteva riparare l'armatore ha fatto tutta la pratica per la per la vendita e finalmente detto da lui la nave è stata venduta poi che è successo dicevo diciamo che ci volevano un mesetto come minimo da inizi maggio a fine maggio per risbloccare questa situazione a livello a livello di consulato per fare lo sbarco ogni settimana io ho chiamato il signor angelo damato l'amministratore delegato e mi dicevo stiamo facendo le pratiche alla fine mi ha detto che la vendita è stata effettuata ieri ho chiamato per sapere la situazione e mi aveva detto che c'era stato si era aperto uno spiraglio a livello a livello per il visti per lo sbarco sono messi di apprezzione questi per la vostra famiglia la mia famiglia si immagini mio figlio è imbarcato da 23 di settembre 2020 poi c'è un allievo di un allievo di coperta che è imbarcato a novembre indipendentemente poi gli altri ci sono ci saranno altri 4 5 ufficiali a bordo sicuramente non so chi siano il consolato l'autorità cinese non avevano dato il visto ho fatto ripetuti email al consolato e il primo email di risposta del consolato e di shanghai che di competenza siamo di shanghai mi ha risposto che la nave che si trova attualmente in quel porto la non è un porto predefinito per lo sbarco di equipaggio in questi mesi lei è riuscito a comunicare con suo figlio certamente anche stamattina e tutti i giorni mi ha detto tre quattro giorni fa si è albazano a via informale si è aperto lo spiraglio e noi pensiamo per il giorno 3 di giugno dato che il 2 di giugno è festa nazionale del lavoro il 3 di giugno noi riusciamo a far sbarcare almeno suo figlio poi le altre il giorno 8 invece suo figlio come sta vivendo questa situazione psicologicamente diciamo è uno stato proprio di depressione diciamo non si riesce a capire a dire una verità che appello vuole fare alle nostre telecamere io voglio fare un appello ben preciso indipendentemente che noi siamo soggetti alle leggi diciamo del governo ma ci sono ma sono italiani sono otto mesi che stanno a bordo non hanno visto faccia di nessuno covid non ce n'è perché sono saliti il 23 di settembre basta e sono rimasti là adesso il visto non si riesce a avere perché la prima email il consolato di sciangami ha detto che quel porto là non possono sbarcare ci sono altri porti predefiniti per poterli sbarcare e queste e questo equipaggio chi lo deve prendere per portarlo là